Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Anivalli Associati. Sede di Fano, in Viale Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Viale Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, bell'occhi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo e le settimanali di Fano TV. Si comincia a fare sul serio nel campionato di A3 di pallavolo. Sono scattati i playoff ed è scattata anche la Smart System. Subito vittoriosa nel primo confronto, quello con Modica, successo all'andata in Sicilia. Successo anche nella gara di ritorno di domenica scorsa al Palace Allende. Di questa sfida con Modica, ma soprattutto di quella in arrivo con Motta di Livenza, parleremo con Vincenzo Mastrangelo, allenatore della squadra fanese. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. E Pietro Margutti, per la prima volta nostro ospite. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Vincenzo, una sfida, quella con Modica, che vi vedeva largamente favoriti. Avevate vinto entrambi i confronti della regular season, il secondo anche abbastanza recente. Vi siete imposti in Sicilia con relativa facilità. C'è stato il blackout inizio secondo set a complicare la vita. Per il resto, insomma, la partita è finata via liscia. Poi domenica al Palace Allende possono scorrere le immagini. Quel primo set che ha gettato un po' tutti nello sconforto, perché sembrava in pieno controllo, poi ad un certo punto si è spenta nuovamente la luce e quel set è andato a pannaggio dei siciliani. E lì qualche piccolo fantasma ha cominciato a circolare. È così oppure siete stati sempre sicuri del fatto vostro? Ma sicuri non si può essere mai, fin quando non cade l'ultimo pallone. Invece abbiamo giocato il primo set e stavano giocando molto bene. Quello che avevamo preparato veniva fuori, con qualità. Eravano 16-9, poi ancora 21-16. E poi dopo, loro hanno trovato tre turni di servizio, dei tre schiacciatori in salto, sicuramente fatti molto bene. Molto. Con qualità. Però noi non possiamo permettere all'avversario, specialmente quando giochiamo in casa, di tornare in partita dopo aver giocato un set, così che era nettamente nelle nostre mani. Quindi quello è un po' il rammarico della partita. E così come nella partita liamodica, il terzo set era un 9-1 per loro. Siamo partiti male sul 2-0. Però abbiamo avuto la possibilità di tornare in partita, di rivincere anche quel set. Sarebbe stato un 3-0 meritato e tranquillo. Invece stiamo capendo che in questo sport di tranquillità non ce n'è. E queste partite specialmente sono figlie di tanta tensione, di tanta adrenalina da gestire. e chi è abituato sa, chi non è abituato sta imparando a gestirla e l'unico modo per farlo è fare esperienza e giocarle. Io l'ho detto da quando sono arrivato, forse è stato il mio primo discorso nello spogliatoio lì a San Giustino. approfittiamo di giocare queste partite perché queste partite all'entro fuori sono le partite che poi incontreremo alla fine. si impara giocandole, anche dal punto di vista proprio dell'allenatore. Sono situazioni totalmente diverse da una stagione regolare. le emozioni vanno gestite, c'è tanto lavoro più mentale da mettere in campo. È l'atmosfera dei play-off, ha fatto riferimento anche al dato tecnico, cioè Modica ad un certo punto ha cominciato a tirare la battuta, però mi pare che i problemi in cambio palla che sono emersi in quello spezzone di partita siano andati un po' oltre i meriti di Modica. Sì, decisamente. Noi siamo una squadra che diciamo che facciamo della nostra fase break, battuta, muro, difesa e contrattacco, qualcosa di categoria, non voglio dire superiore, però abbiamo fisicità, abbiamo tecniche in quei fondamentali importanti di primissimo livello in questa categoria, forse la miglior squadra. È chiaro che nell'altra fase facciamo fatica, non siamo una squadra da primo, secondo posto, terzo posto, siamo una squadra che diciamo si arrangia un po'. Se la deve guadagnare. Se la deve guadagnare, quindi c'è partita che ce la guadagniamo meglio, delle partite ce la guadagniamo peggio. Da quando sono arrivato ho capito un po' e ho puntato a cercare di limare qualche difetto, ma di puntare su quelle che erano le nostre qualità migliori, battuta, muro, difesa, e stiamo lavorando su quello tanto, perché so che quella fase ci alleggerisce la pressione, il cambio palla, che ce ne creiamo delle volte tanta da soli, più di quella che c'è. Si dice sempre che i play-off sono un'altra storia. Pietro, tu che qualche esperienza nei play-off l'hai vissuta, è davvero così? Assolutamente. Penso che sia la parte, il vero fulcro del campionato sia i play-off, almeno per quanto mi riguarda arrivare in questa fase e nel migliore dei modi, penso che sia fondamentale, perché è anche la fase che poi tira un po' le somme di quello che effettivamente hai fatto durante il campionato. Penso e spero che questa squadra, fino ad adesso abbiamo fatto solamente due partite, però abbia anche la voglia, la grinta proprio, essendo un gruppo giovane, quello di voler andare avanti non solo per il prossimo anno, per una questione, non lo so, di soldi, stipendi, ma proprio per una questione di vincere, perché almeno per quello che ho io è proprio la voglia che vogliamo arrivare fino in fondo e non buttare via un campionato, perché è lungo, è tanta fatica, e arrivati a questo momento dobbiamo dare davvero tutto. Perché la storia dei play-off insegna in generale che non è che la spunti sempre il più forte, ma probabilmente molto più spesso la spunta chi arriva meglio ai play-off. Assolutamente, l'esperienza fa tanto, questa è proprio la differenza di avere esperienza, come diceva prima il coach o meno, che queste partite devi giocarne tante per poi arrivare a vincerne. La grinta che hai dentro, ne abbiamo avuto pochi giorni fa anche la dimostrazione da parte di altri campionati, che la squadra più forte non è detto che vinca. Adesso io stavo facendo riferimento a un altro campionato, però penso che valga anche nel nostro, dato che questa differenza così abissale tra squadre non ci sia, perché più o meno il livello, bello, almeno per quanto riguarda il nostro girono in questo momento che abbiamo vissuto noi, abbiamo notato che può succedere davvero di ogni. Mentre vediamo anche la clip dedicata all'ultima sfida giocata al Palace Allende contro Modica, cominciamo a mettere a fuoco il prossimo step. Motta di Livenza sulla strada della Virtus, squadra che appartiene al girone centro-nord, che ha eliminato Savigliano, che l'aveva preceduta in classifica in stagione regolare, che progredita a strada facendo, anche perché ha adeguato l'organico, ha rinunciato a Bulfon, opposto di ruolo, ex Virtus, ha schierato a lungo tre schiacciatori ricevitori, una scelta anomala, anche se non così rara, ultimamente ha schierato nuovamente l'opposto titolare, una squadra da decodificare, Mastrangelo? Ma è una squadra che sta facendo bene, ha fatto molto bene nel girone di ritorno, tra le migliori del loro girone, a dei ragazzi che hanno già vinto la categoria, quindi hanno già quell'esperienza di cui parlavamo prima, a giocare quelle partite. Però è chiaro che poi c'è il campo, noi sappiamo, stiamo studiando già ciò che ci aspetta, con Roscio, con lo staff, con Mike, e quindi cercheremo di trovare tutte le soluzioni per metterli in difficoltà, con quella fase di cui parlavamo prima, che è la nostra fase migliore, quella del servizio e del muro. Proprio perché dobbiamo tenere la loro fase di cambio palla, un'ottima fase di cambio palla, con un palleggiatore giovane, ma con due bellissime mani. ha giocato tanto l'anno scorso in A2 a Bergamo, al posto dello straniero, quindi si sta facendo tanta strada, tanta esperienza. Anche lui, Gatone, e niente. Siamo fiduciosi, siamo fiduciosi, perché, come ha detto Pietro, a questo punto della stagione le differenze sono minime. Io porto sempre l'esempio nostro, il mio, di Reggio Emilia, di due anni fa. Sicuramente non eravamo la scuola favorita a vincere la Coppa Italia. L'abbiamo vinta sempre vincendo fuori casa. Sempre. Quarto, semifinale, finale. Play-off uguale. Siamo partiti da quinti, da quarti, e comunque abbiamo vinto noi. È perché è il modo in cui ci arrivi che conta. Mantiene lucidità, non farsi prendere dall'ansia di quello che si sta facendo. Non pensare a quello che può succedere dopo. Perché poi alla fine si ricorderanno tutti di quello che facciamo adesso, non di quello che abbiamo fatto per sei mesi. Vedete macerata che sta succedendo. E l'anno scorso Fano cos'è successo. Primo turno, diciamo così, anomalo di play-off, perché soltanto gara di andata e ritorno, e questo esponeva a qualche piccolo rischio. Adesso si torna a giocare al meglio delle tre partite, e bisogna far leva su questo fattore campo, che per la Smart System in questa stagione, ma anche nella precedente, è stato determinante. Sì, aver ottenuto il secondo posto in classifica deve essere un vantaggio, sicuramente, e dobbiamo saperlo sfruttare al meglio. Per il momento, per fortuna, in casa sappiamo esprimere forse un gioco un po' più continuo, un po' più aggressivo, soprattutto nei nostri fondamentali migliori, come potevano essere quelli della battuta. Fuori casa abbiamo avuto diversi intoppi, però ultimamente, diciamo, stiamo lavorando molto anche su quello. E niente, quindi dobbiamo riuscire davvero col fatto anche del nostro pubblico, c'è anche da dirlo, perché è sicuramente un vantaggio molto, molto grande. L'abbiamo notato, noi lo sentiamo mentre giochiamo, quindi quello fa davvero tanta, tanta differenza. Il Palace Allende non mette a suo agio la squadra che arriva, anche il campo di Motta di Rivenza però è insidioso. Sì, ci aspetterà anche lì un campo caldo, un palazzetto ancora più piccolo del nostro, dove è difficile giocare a pallavolo. Lo sappiamo e dobbiamo essere pronti. Ieri Portoviro, in un palazzetto enorme, dove non è abituato a giocarci, per l'ennesima volta ha dato 3-0 a Cunio, ha mandato fuori Cunio dalla promozione in A1. Quindi non c'è... Non c'è una regola. Non c'è una regola. Le partite vanno preparate bene, vissute bene, e poi giocate bene. Se saremo bravi a giocarle bene, allora ci divertiamo. E sappiamo che se non riusciamo a giocare bene, l'avversario riuscirà a giocare meglio di noi, perderemo. Perché è la legge dello sport, perché in questi sport non c'è il pareggio. C'è sempre qualcuno che deve vincere. Quindi alla fine di solito in questo sport vince chi gioca meglio. E quindi, per il momento, abbiamo giocato meglio degli altri. Contatti di continuare a farlo. Ma ci mettiamo l'anima. Quadro dei play-off. Vediamo gli abbinamenti. Belluno-Palmi, Lago Negro-Sandona, e appunto Smart System-Motto di Levenza. In caso di vittoria siete autorizzati a fare gli scongiuri del caso. Smart System contro Palmi, che credo, con un parere condiviso da parte degli addetti ai lavori, sia indicata come la squadra, non soltanto in virtù del successo in Coppa Italia e in Supercoppa, come appunto la squadra che potrebbe sfruntarla in questi play-off. È anche la vostra opinione? Sicuramente, adesso noi pensiamo alla prossima, quello fuori dubbio. però in un futuro, diciamo, guardando un po' più in là, sicuramente Palmi fa, in questo momento, fa paura, perché è una squadra che gioca davvero bene e l'abbiamo, l'abbiamo vissuta anche noi sul campo durante la Coppa Italia, quindi sapendo che la posta in palio è molto alta, secondo me è la squadra sicuramente in questo momento più temibile per quanto mi riguarda. Palmi che è appunto dalla parte del tabellone della Virtus, mentre dall'altra, nell'altra, finirà la perdente della finale secca che è in corso tra Gabbiano, Mantova e Macerata, con Mantova che ha vinto la prima partita. In questa occasione, però, non parliamo soltanto di play-off, ma celebriamo un fatto recentissimo di queste ore, perché Vincenzo Mastrangelo ha firmato un contratto che lo legherà alla Smart System Virtus per le prossime due stagioni fino al 2026. Ora, questo significa due cose, che Mastrangelo si è trovato bene a Fano e che la società si è trovata bene con lui e con lui sta pianificando un futuro che a prescindere dall'esito di questa stagione, che chiaramente inciderà, vuole essere ambizioso in ogni caso. Sì, è successo, è successo quello che abbiamo voluto entrambi, perché ho avuto prova di quanta stima e fiducia e hanno avuto il presidente Emilio, con anche Mattia Brunetti, con il DS, ma tutta la società, ma anche l'ambiente, adesso giornata dopo giornata mi sento bene, mi sento bene a stare qua, mi sento bene ad allenare loro, sto bene, ormai ho trovato un mio equilibrio, una mia dimensione e penso che sia uno degli aspetti più importanti a cui ho pensato, la stima che la sento, la sento intorno a me da parte di tutti, il presidente in primis, perché è stato il primo che mi ha convinto, è stato l'uomo che mi ha convinto ad accettare a venire qui, all'inizio, a gennaio, a dicembre, è stato quasi un mese con me, che mi corteggiava, tra virgolette. E poi dopo la finale di Coppa che abbiamo perso, perché lì ho avuto la percezione, no, proprio lo switch che le cose dovevano cambiare, nel senso che dovevo rimanere affano a prescindere da quello che c'era nel mio contratto, che prevedeva altro, perché dopo aver perso la Coppa, essere chiuso in uno spogliatoio, è invitato a rimanere ancora di più, allungare il contratto, onestamente non mi era mai capitato. Mi sarei aspettato in altri ambienti da dove sono stato, tutt'altro che un prolungamento di contratto, ma critiche, rimaniamo per essere educati a critiche solamente. Invece ho trovato delle persone veramente straordinarie, competenti, che capiscono tanto, anche di palavolo, a parte quello che fanno poi nella vita, e ne è prova che sono quello che fanno. Dovevo rimanere qua. Vasta fine, e quindi ho chiamato il mio agente, che era lì presente alla finale, e avevo detto, Mattia, parlatevi, trovate una soluzione, per me non ci sono problemi. Fano è una delle tante case della pallavolo italiana, e questo credo, che non solo nel caso dell'annatore, ma anche nel caso di un giocatore, aiuti, perché si sente a dover fare il proprio mestiere in un ambiente che capisce quel mestiere. È così Pietro? Vero, verissimo, le parole che hai detto sono proprio giuste, perché a Fano si respiga davvero aga di pallavolo, è bello, perché si è anche tanto seguiti, che questa cosa in molte città manca, perché almeno per la mia esperienza il pubblico fa la sua parte, e soprattutto ormai negli ultimi anni anche Fano si sta proprio facendo valere del fatto che è una società sicuramente seria, ma nello stesso nello stesso tempo anche forte, cioè che punta ad avere una squadra competitiva per riuscire a raggiungere un obiettivo comunque alto. Sicuramente questo personalmente io parlo a livello di giocatore, quando tu vai a fare una scelta, sicuramente in questo momento Fano viene classificata davvero molto in alto, perché anche tra noi giocatori non sembra, ma si parla davvero molto. il mondo della pallavolo è piccolo, quindi abbiamo tantissimi compagni di squadra, quindi vai sempre a chiedere un consiglio e il consiglio io che andrò a dire o che dirò sicuramente è che a Fano si sta davvero molto molto bene. Senza precludere la possibilità di restare. No, anzi assolutamente, questo ancora non se ne è parlato. Non è che ne pare un altro schiacciatore che venga al posto tuo. no, assolutamente, ma non dicono schiacciatori in generale un po' tutti i giocatori. Questo adesso è al di fuori, da quello che voglio pensare perché voglio concentrarmi più sul momento e dare il massimo e cercare di portare davvero qualcosa di importante al collo. Poi c'è un altro aspetto veramente interessante che ha portato me a pensare anche di continuare. C'è una cosa che può essere anche banale ma vedere tutti quei bambini e ragazzini che a fine partita scendono giù e sapere che loro sono il nostro settore giovanile perché sono veramente tutti ragazzini bambini bambine che frequentano il nostro settore giovanile. Questo non mi era mai capitato mai mai così. Qui ci so che ci sono 4-500 tesserati a livello giovanile. Sto iniziando anche ad andare da loro a vedere un po' qualche cosina insieme ai loro allenatori però inizio a prendere a cuore un po' tutto ma vederli così partecipi a fine partita scendere giù stare con noi farsi fare la foto con noi ma è proprio vedere l'entusiasmo che c'è dietro solamente alla squadra di pallavolo fino ad adesso sempre fine a se stessa la società gruppo squadra tifosi però non con tutto quello che viene dopo e non dimentichiamo che da qui sono usciti già negli ultimi anni Pierotti Tallone Lucconi giocatori che sono già si stanno giocando le promozioni nella categoria superiore se non grazie a chi grazie a questa società e agli allenatori i tecnici che lavorano nel settore giovanile che li stanno formando lo stesso Roberti da noi cioè c'è tanto che mi ha portato veramente a far cosa c'è dell'humus come si dice grazie si profusa cioè si odora la palla a volo grazie a Vincenzo Mastrangio l'allenatore della Smart System grazie a Pietro Margutti schiacciatore della squadra affanese torniamo fra qualche attimo e siamo ora al calcio partita decisamente strana quella che l'Alma ha giocato domenica scorsa a Tivoli pareggiandola alla fine due a due gara condotta in sofferenza con i padroni di casa come vediamo dalle immagini presto in vantaggio anche nella condizione di raddoppiare la formazione granata stretto ai denti si è in qualche modo abbalsa della grande prestazione di guerrieri per restare in partita e successivamente nel corso dell'inizio del secondo tempo ha anche provato a riequilibrare la situazione ma è stato sempre il Tivoli a menare le danze fino a questo finale di partita assolutamente roccambolesco come vedremo due rigori in sequenza assegnati alla formazione granata entrambi trasformati con sicurezza da Gonzales che hanno consentito alla formazione di Manoni di capovolgere la situazione quando ormai la partita stava terminando evidentemente però questa vittoria che certamente non avrebbe rispecchiato quanto prodotto in campo non doveva arrivare perché in coda a quel maxi recupero è arrivato anche il 2 a 2 del Tivoli Alma che naturalmente avrebbe molto beneficiato di una vittoria per quanto immeritata per risollevare una situazione di classifica che resta estremamente complicata ad oggi come vedremo tra poco l'Alma sarebbe retrocessa in eccellenza si è riconquistato il terzo ultimo posto ma è penalizzata dal ritardo che lamenta nei confronti della sest'ultima in classifica otto lunghezze che precluderebbero la possibilità appunto di giocarsi la permanenza in categoria in questa appendice di stagione Alma che anche a Tivoli ha palesato problemi Manoni ha ritoccato ancora una volta lo schieramento in campo disponendo i suoi con una sorta di 3-4-3 in cui non si sono trovati particolarmente a loro agio Gonzales nel ruolo di esterno sinistro d'attacco e Ricci inedito esterno destro a tutto campo Alma che da questo punto di vista è chiamata a trovare per questo finale di stagione una solidità che appunto in quest'ultimo periodo sembra essere venuta meno andiamo a vedere anche quella che è la situazione relativamente alla trentesima giornata i risultati che sono maturati con il vasto Girardi sconfitto dall'Atletico Ascoli appunto appagliato dal Fano mentre lì in coda continua ad avanzare Real Monterotondo vittorioso sul Sora per 2-1 sempre in coda la sconfitta del Termoli sul campo del Chieti mentre risale la china il Matese 2-1 sul Notaresco la classifica adesso con la formazione Granata appunto appagliata al penultimo posto al vasto Girardi dietro solo il Matese davanti a sei lunghezze United, Riccione e Tivoli poi il Sora ad otto mica pochi vent'anni ed è esattamente da due decenni che si corre la Colle Marathon l'edizione del ventennale il prossimo 5 maggio e di questa edizione ma anche di questi vent'anni trascorsi assieme parleremo con Annibale Montanari presidente anima della Colle Marathon buonasera e bentornato buonasera a tutti e Marco Savelli del comitato organizzatore della Colle Marathon buonasera e bentornato anche a lui buonasera a tutti quanti Annibale prima domanda guardando indietro a questi vent'anni che vi portate felicemente sulle spalle quali sono le prime considerazioni che ti vengono in mente ma la considerazione più importante è aver raggiunto l'obiettivo di fare del bene di aiutare i sofferenti più deboli perché la Maratona dei Valori l'obiettivo era questo poi abbiamo fatto divertire tanta gente abbiamo fatto con il nostro stile di vita far crescere il movimento e ci siamo riusciti e quest'anno sarà l'epilogo importante di dare una scossa importante anche i significati i valori di quello che portiamo avanti guardando indietro e invece Marco qual è il fotogramma le istantanee che ti porti dietro sicuramente la partenza della Colle Marathon è un evento unico per quanto riguarda il panorama delle maratone la gioia di quella musica di quella natural countdown da un'energia in mezzo al borgo di barchi che è fantastica e si respira non soltanto un'anima di felicità di gioia e di agonismo ma proprio un valore enorme che è quello dello stare insieme una Colle Marathon che si è sempre distinta come maratona dei valori un aspetto questo che avete sempre sottolineato con grande forza e che tendete ad accentuare ogni volta in maniera ancora più determinata Sì perché il nostro è uno spiro di servizio insieme alla fede abbiamo creato qualcosa di importante e volevo ringraziare chi ci sostiene da anni con le grandi aziende le eccellenze del territorio le istituzioni tutte ci siamo giocati un intero territorio che si mette al servizio di un evento unico perché sappiamo bene che un percorso come abbiamo noi in mezzo ai borghi non esiste su un crinale così così bello Non sono stati vent'anni sempre facili ci sono state tante difficoltà da superare a un certo punto si è addirittura appaventato il rischio della cancellazione della Colle Marathon è un rischio che vi siete messi definitivamente alle spalle Sì grazie devo dire grazie a Barbara Brunori che ha dato la scorsa insieme alle istituzioni dove quello che ci mancava è arrivato e ci hanno fatto continuare nel percorso quindi su questo ci abbiamo creduto e adesso quest'anno ci sarà un grosso lavoro perché con il campionato italiano paralimpico ci impegna tanto per dare dei servizi perché non possono mancare per la prima volta in Italia quindi sulla 21 Colle Marathon che sarebbe stata impossibile da fare in questi 20 anni senza il contributo di questo esercito di volontari l'abbiamo sempre chiamato così che rappresenta davvero il nerbo di questa manifestazione Sicuramente il mondo del volontariato il mondo del voler stare insieme e di voler proprio spingere fino all'arrivo la Colle Marathon ci ha portato a stare sempre più uniti quindi tutto il mondo dell'associativismo del volontariato delle proloco ma non soltanto delle amministrazioni dei media questa grandissima attenzione nei confronti di un evento che è l'unica maratona ripetiamo nella nostra regione quindi quest'anno è di nuovo campionato regionale di maratona porta a far sì che le tante persone vogliono bene alla Colle Marathon noi vogliamo bene ai volontari e lo dimostra le tante associazioni presenti una su tutte proprio vedendo anche le immagini dell'Aile dove appunto c'è questa bellissima camminata che parte da Mondolfo e sfrutta il percorso della mezza maratona per portare tantissime persone tantissime donne a testimoniare e dare un bellissimo contributo per la ricerca unicità della Colle Marathon che fa leva anche sul fatto che attraversi una serie di paesaggi straordinari ed offra a chi compete anche la possibilità comunque di alleviare lo sforzo godendo appunto di queste suggestioni Annibale beh certo il nostro obiettivo è quello di trasmettere entusiasmo a tutti perché oltre il benessere psicofisico che dà il movimento ma soprattutto coinvolgere tutti quanti in un evento dove ci guadagna tutto il territorio con la promozione turistica ma soprattutto per il benessere psicofisico veramente ognuno di noi si può mettere in gioco e quest'anno con le tre uscite diciamo i tre percorsi anche chi non ha mai corso la 10 km può fare la sua passeggiatina e dare ecco un aiuto a noi perché mandare anche volevo mandare un messaggio sulla base di questo perché abbiamo bisogno quest'anno di tanta gente che ci aiuti ed è la gente sul percorso che ci di la mano ecco che organizzi e faccia delle iniziative importanti sulla base di questo per animare un pochettino il percorso all'inizio la Colle Marathon era maratona e basta poi col tempo ha in qualche modo moltiplicato la proposta adesso si rivolge ad una platea sempre più ampia perché c'è la possibilità di correre sui 10 km e c'è la possibilità di correre anche la mezza maratona e quindi andate a soddisfare le richieste e le esigenze un po' di tutti si proprio la Colle Marathon in questi anni si sta un po' allineando a quello che è il panorama delle grandi maratone dove c'è un'offerta ampia perché è un'offerta rivolta a tutto il nucleo chiamiamolo familiare del podista dove spesso c'è il podista maratoneta e di fianco c'è un partner che può correre soltanto la 10 km per capacità o anche la mezza maratona quindi tre partenze complicatissima per la Colle Marathon e un bellissimo arrivo questo appunto darà possibilità a tantissimi di poter partecipare come l'anno scorso a tre distanze diverse quindi abbracciamo tutte quelle che sono le possibilità di poter dire sì ce la voglio fare sì voglio raggiungere il traguardo sì voglio raggiungere questo bellissimo arrivo a Fano sotto l'arco d'agusto ed è esattamente questa è una delle novità introdotte di recente l'arrivo sotto l'arco d'agusto altro contesto così ricco di storia e di fascino le tre partenze esattamente da dove quella tradizionale da Barchi e poi mezza maratona da Mondolfo la 10 km da Metauriglia grazie anche a questa appunto bellissima collaborazione nuova con l'associazione della Dalfiume di Metauriglia e logicamente l'arrivo all'arco d'agusto Savelli non è anche una colonna del comitato organizzatore ma anche maratonete allora dal punto di vista sportivo ma davvero la Colle Marathon è così dura la Colle Marathon non è una maratona facile uno pensa che si parte in quota se arriva in pianura se parte da una collina se arriva al mare no assolutamente è una maratona ondulata e proprio per questa caratteristica dell'essere mossa porta a valori bellissimi paesaggistici si attraversano tantissimi borghi ed è per questo quindi questo sali scendi continuo questo mangia e bevi porta ad essere una maratona sicuramente tecnica non è una maratona assolutamente da record del mondo tuttavia è una maratona che dà tantissimo stimolo ed è una maratona appunto che gli ultimi chilometri in pianura portano alle vere criticità perché per il maratoneta la maratona inizia dopo il trentesimo chilometro l'anno scorso una delle incognite era quella relativa alle iscrizioni perché la macchina organizzativa si era messa in moto tardi da questo punto di vista quest'anno non ci sono problemi Sembra di no perché siamo partiti bene e adesso quello che verrà che è maggiormente nel mese di aprile che concluderà ecco le iscrizioni penso che dovremmo arrivare come noi ci siamo prefissi oltre 1.500 2.000 con tutte e tre le gare quindi adesso stiamo andando bene già ci sono 18 paesi stranieri che sono presenti quindi una maratona che ha investito nella solidarietà soprattutto sta avendo i suoi ritorni di immagine appunto la partecipazione di atleti provenienti da altri paesi cosa trovano di particolare riescono a cogliere i valori della Colle Marathon è il dubbio che i valori della Colle Marathon vengono apprezzati tantissimo perché respirano tantissima gioia tantissima felicità è una maratona dove appunto mezza maratona e maratona richiama tantissimi pesi che sono coloro che aiutano il podista a raggiungere il traguardo nel tempo prefissato ci sono gli spingitori c'è il mondo appunto della disabilità e non è facile coniugare tutte queste belle iniziative all'interno di un evento che ripetiamo è pur sempre affascinante ma per gli organizzatori complicato e quindi lo apprezzano ancora di più perché sanno che parteciparo a una maratona non semplicissima li rende ancora più partecipi e vogliosi di tornare abbiamo avuto tantissime testimonianze sia dall'estero e anche dall'Italia di chi è venuto a fare semplicemente il peser e poi dire ho riportato di nuovo amici quindi chi viene una volta la volta successiva porta altre persone e questo è fantastico e anche dal punto di vista prettamente turistico direi un aspetto da tenere in grande considerazione abbiamo anche le immagini della presentazione ufficiale della Colle Marathon 2024 che pone davvero grande attenzione più che mai in questa edizione al mondo della disabilità una Colle Marathon sempre più inclusiva sì a proposito vorrei ringraziare chi ci ha fornito quel bel relay che abbiamo avuto lassù a Villa Cerbara grazie a Lorenzo Campanelli che abbiamo fatto una presentazione molto bella preparata bene e poi soprattutto ha avuto la bella idea di investire nella disabilità è stato lui che ci ha diciamo dato quello spunto importante e noi ci abbiamo creduto e adesso stiamo andando avanti per dare un giorno veramente di entusiasmo a questa gente che se no non li vedi mai uscire deve essere un giorno di gloria che dobbiamo soprattutto ecco essere essere nei servizi presenti soprattutto ecco per farli veramente vivere un giorno diverso come si articolerà in concreto questa partecipazione del mondo della disabilità vogliamo appunto far sì e riprendo il termine che tu hai appena accennato di inclusività quindi sia all'accoglienza quindi sabato nel villaggio quando verranno consegnati i pettorali i pacchi gara ci sarà la presenza del mondo dell'associativismo della disabilità proprio per questa situazione di inclusività tra il normodotato che corre il disabile e il disabile che aiuta sia il normodotato che il disabile e ugualmente poi la domenica all'arrivo ci sarà tantissima partecipazione quindi arriveranno mezz'ora prima proprio per poter accogliere tutti i partecipanti l'aspetto della solidarietà perché attorno ai disabili si muove una cerchia di persone che si stringono attorno al disabile e condividono con lui questa esperienza della corsa è in effetti molto gratificante quanto si aiuta a questa gente qua che vedono che sono contenti si divertono a essere in un ambiente così dove veramente ci ritroviamo tutti per vivere dei momenti che abbiamo bisogno in questa società che è un po' degradata noi dobbiamo fare qualcosa tutti non ci è mai piaciuto stare a guardare quindi ci mettiamo tutti in gioco per dare veramente qualcosa in più a chi è più sofferente di noi e tra l'altro la Colle Marathon su questo piano garantisce anche un titolo quest'anno perché la prova è valida quale campionato italiano paralimpico mi vengono proprio i brividi a pensare che il mondo della disabilità il mondo del comitato paralimpico ha scelto la Colle Marathon come campionato italiano di mezza maratona paralimpica quindi vuol dire che diamo un'immagine stra positiva diamo un'immagine proprio di inclusività dove siamo veramente apprezzati per dire che la disabilità è una risorsa e se il comitato paralimpico ci ha contattato e ci sta premiando per organizzare il campionato italiano paralimpico vuol dire che siamo già a buona strada e essendo buona strada dobbiamo soltanto continuare a fare meglio dando un servizio eccezionale a tutti i disabili che arriveranno a Fano perché saranno ospitati nelle attività ricettive della nostra città e abbiamo bisogno di tantissimi volontari perché richiedono molta più attenzione sicuramente il mondo del associativismo sarà protagonista di questo ma vogliamo che tutti i cittadini tutti i fanesi si adoperino affinché la Colle Marathon possa diventare anche campionato europeo del Paro Olimpico è già ampiamente emerso da questa narrazione ma vale la pena di sottolineare ancora una volta come la Colle Marathon garantisca un ambiente familiare è così Annibale? è vero qui è una grande famiglia che è cresciuta mano a mano nei vent'anni e ognuno di noi crede in questi valori soprattutto perché è insieme che si costruiscono le cose insieme stiamo aiutando tanta gente in sofferenza e insieme vogliamo continuare in questo percorso dove la nostra missione è quella di fare del bene quindi è un evento che ha fatto soprattutto ha trasmesso questo e dove ecco ognuno di noi crede in questi valori a proposito volevo ringraziare tutti quelli che partecipano e quelli che saranno presenti e poi tutte le varie istituzioni l'eccellenza del territorio le aziende che quest'anno ne sono arrivate tante veramente addirittura c'è un'azienda come la Techfem che mette a disposizione il suo personale per darci un aiuto anche ai ristori quindi questo è importante perché ne abbiamo bisogno il mondo della visibilità sarà al centro anche di un appuntamento che avete organizzato e che rappresenta una tappa di avvicinamento alla Colle Marathon per il fine settimana a San Costanzo Sì, in effetti questa è un'altra cosa importante che a noi interessa il futuro dei giovani quindi avremo un convegno con le scuole a San Costanzo grazie al sindaco Filippo Sorcinelli che tra l'altro ci mette a disposizione in uso gratuito il teatro insieme alla Giunta di cui io faccio parte e quindi faremo anche lì ci sono dei relatori molto bravi che racconteranno le loro storie e sarà un momento importante è chiaro che la capienza non sarà per tutti però ecco ci saranno un centinaio di scuole della terza media di San Costanzo Mondolfo e Marotta presenti e sarà un momento importante per trasmettere veramente i nostri valori in quell'occasione Questi vent'anni di Colle Marathon saranno anche in materia di un volume che verrà dato prestissimo alle stampe credo che fosse quasi doveroso in qualche modo fissare questo percorso con qualcosa di tangibile Assolutamente sì ci sarà questa bellissima presentazione del libro perché vent'anni vanno assolutamente raccontati e quindi c'è la voglia veramente di raccontare tutti questi bellissimi partenze venti partenze venti traguardi venti anni di emozioni e venti anni di collaborazione non soltanto con le amministrazioni comunali ma con tutti gli sponsor che senza questo grandissimo aiuto economico non saremmo arrivati al ventesimo anno e anche partnership di assoluto prestigio proprio sul versante della solidarietà e della fratellanza ancora di più il legame che ci lega col mondo dei valori proprio perché è la maratona dei valori ed è questo è il valore che sempre di più il nostro presidente Annibale vuole trasmettere la vicinanza la fratellanza il volersi bene un ultimo appello Annibale lo rivolgiamo a chi sarà lungo il percorso che è chiamato a supportare la fatica dei concorrenti ma anche a creare l'atmosfera beh sì abbiamo bisogno di tutte specialmente delle proloco e delle varie associazioni che devono prendere delle iniziative importanti quest'anno noi diamo tante opportunità a tutti ognuno di loro può dare una mano che poi è per il bene comune a fare qualcosa di importante nei borghi che attraversiamo quindi inventiamoci qualcosa e abbiamo bisogno veramente di un sostegno del volontariato perché quest'anno ne abbiamo tanto bisogno perché con i disabili dobbiamo garantire dei servizi importanti e a proposito del libro volevo ricordare che Plurale Com ha fatto un lavoro eccezionale per un'eccellenza del territorio dove ha lavorato giorno e notte per far sì che domani ci prepariamo per andare in stampa per averlo pronto per la fine del mese quindi veramente grazie a chi ci ha lavorato tanto dietro Colle Marathon il 5 maggio prossimo grazie ad Annibale Montanari Presidente della Colle Marathon grazie a Marco Savelli del Comitato Colle Marathon noi torniamo fra qualche istante lo sport è di tutti ed è per tutti ad offrirne preziosa testimonianza e credo che l'espressione sia in questo caso molto appropriata coloro che si stanno rendendo protagonisti in queste ore di un torneo di tennis assolutamente speciale quello riservato ai religiosi che viene ospitato dal Circolo Tennis Fano ed ospitiamo per questo torneo assolutamente inedito per Fano ma non solo Don Francesco Pierpaoli che ha importato questa esperienza su questo territorio buonasera e benvenuto buonasera a voi grazie per l'invito e padre Daniel Vacek che di questo torneo è protagonista a pieno titolo perché viene indicato come uno dei favoritissimi buonasera a tutti buonasera e benvenuto anche a lui Don Francesco com'è venuta l'idea e come siete riusciti a metterla in pratica beh l'idea è venuta da qualcosa che nella mia vita è essenziale per me lo sport è arrivato anche prima della vocazione quindi giocare a calcio per strada a tennis a pallavolo correre eccetera questa idea del tennis in particolare nel 2016 accompagnando i giovani alla GMG di Cracovia dove ho vissuto con loro una bellissima esperienza in una chiesa ho visto scritto in inglese torneo di tennis per preti la cosa mi ha talmente incuriosito che mi sono iscritto e ho terminato la giornata della gioventù con i tre giorni a Zibiec dove ho giocato a tennis chiaramente andando un italiano per la prima volta l'Italia è ammirata dai polacchi c'era il papa polacco che era da noi Karol Wojtyla e quindi l'idea è partita da lì e sicché la prima edizione l'abbiamo fatta a Recanati e Loreto e la seconda edizione essendo io di questa diocesi e stando qui come parroco chiaramente siamo venuti a Fano ospitati in maniera splendida dall'amministrazione comunale e dal circolo di tennis è un'esperienza questa che state vivendo e che state facendo vivere a questa realtà sicuramente nuova per noi ma non nuova appunto in assoluto ma che ha il merito di sfatare un piccolo tabù diciamocelo perché non sempre la comunità cristiano cattolica vede di buonissimo occhio un prete che fa sport sì i preti che stanno con i mutandoni che vanno con i pantaloncini corti è qualcosa effettivamente di lontano da quello che ci aspettavamo noi magari il prete in talare con il Saturno forse nell'immaginario collettivo c'è un po' questo però sono certo per esempio lo dico anche per sfatare questo che nella mia vita grazie allo sport sono stato educato alla disciplina sono stato educato al rispetto dell'altro valori umani che non sono contrari al Vangelo anzi di cui il Vangelo in qualche modo si serve per far vedere che la vita è il primo dono che riceviamo quindi in questo senso sì è vero cadono dei muri cadono dei giudizi e dico anche che noi preti forse in questo modo ci prendiamo un po' meno sul serio perché alcune volte siamo sempre lì dietro l'altare a pontificare mentre invece anche noi abbiamo rabbia abbiamo delusione abbiamo le emozioni che ci mettono davanti a una sconfitta davanti anche ad accettare qualcuno che non è alla nostra altezza però vince la partita perché magari semplicemente è stato più fortunato più bravo quindi come dici tu sono d'accordo questo aspetto umanizza la vita del prete e io ringrazio Dio che questo sport ce l'ho nel sangue quindi il tennis poi è stata una di quelle cose che magari andando avanti con gli anni forse sarà più facile poter continuare a vivere padre Daniel in Polonia invece come è vissuta la figura del sacerdote o del prete che fa sport secondo me la gente apprezza anche un sacerdote che diciamo si muove che non non lo possono incontrare solo in chiesa all'altare ma lo possono incontrare anche in mezzo alle persone a fare lo sport giocare tennis andare a sciare infatti anche Papa Giovanni Paolo II andava spesso a sciare una cosa una cosa molto bella che poi ci aiuta anche a fare la pastorale perché se si va a giocare il calcio con i bambini è sempre meglio che farli entrare nel campo e stare accanto se lo fai con loro sicuramente sei più coinvolto e anche facendo qualche preghiera qualcosa si può sicuramente fare meglio la pastorale quindi secondo me la gente la gente ci vede bene vedendoci proprio sui vari campi sportivi nel suo caso il tennis primo grande amore oppure si spazia anche in altre discipline sì sono sportivo devo dire che sono sportivo sicuramente lo sport numero uno è tennis era sempre anche tennis ma poi andavo anche spesso a sciare infatti abbiamo anche i campionati dei sacerdoti dei preti nello sci alpino in Polonia quindi si andava anche lì poi gioco anche tennis da tavolo un po' sportivo ma tennis numero uno sicuramente per me padre Daniel dicono fortissimo conferma Don Francesco è confermo dal 2016 come ricordavo prima sono stato a Ziviek ed è l'uomo da battere è sempre andato in finale io non sono della sua categoria quindi non ho mai giocato contro di lui però per fortuna però qualche doppio l'abbiamo fatto ma soprattutto la cosa che mi piaceva perché sai non è non si gioca soltanto ma quando c'è un campo libero immediatamente si gioca con le persone io ho chiesto sempre a Daniel di poter fare un'ora con lui perché aveva quella continuità teneva le palline in campo e quindi dava anche a me quello che io non ho cioè la capacità di tenere uno scambio a lungo perché a un certo punto mi stanco a un certo punto voglio fare quello che non dovrebbe essere fatto quindi sì è sempre stato un punto di riferimento le immagini della presentazione poi vedremo anche qualche fase delle prime partite di questa mattina una iniziativa che è stata accolta con grande favore dalla Santa Sede oltre che dal territorio che la ospita sì hai detto bene perché il cardinal de Mendoza che è il cardinale che cura un po' l'aspetto dell'educazione e della cultura a cui abbiamo chiesto abbiamo chiesto a questo di Castiero il patrocinio immediatamente dico immediatamente quindi già nel mese di dicembre ha sottolineato la bontà di questa iniziativa proprio perché va a toccare degli aspetti di fraternità di amicizia che anche tra noi preti ma soprattutto anche come segnale da dare a tutti era importante che venisse sottolineato quindi sono stato veramente contento di questa disponibilità che abbiamo immediatamente ricevuto e questo credo che anche Papa Francesco il quale certamente adesso non può fare sport ma a parte il suo San Lorenzo in Argentina che tifa a parte l'accoglienza che ha sempre nei riguardi di giocatori eccetera sottolinea molte volte nelle sue catechesi i valori che lo sport spinge ogni giovane a vivere perché poi c'è francamente una coincidenza a volte anche clamorosa tra i valori che lo sport inteso genuinamente nella maniera più sana trasmette e quelli che vengono diffusi dal Vangelo guarda questa mattina abbiamo celebrato la messa con il nostro Vescovo Andrea il quale in cattedrale ha presieduto l'Eucaristia e la sua omelia mi ha molto colpito perché esattamente nella linea che tu dici infatti lui parlava di questa pallina che scende e che noi dobbiamo far risalire la vita è sempre qualcosa che occorre far risalire e occorre che soprattutto riesca a superare una rete che spesse volte sono le nostre fatiche sono le difficoltà della vita quindi riuscire ad andare verso l'alto a rialzarsi continuamente e sottolineava ha anche una dimensione che in questo tempo per esempio è molto importante quella del dialogo cioè per giocare a tennis occorre avere la possibilità di qualcuno che dall'altra parte ti risponda scambiare scambiare e in questo senso è bellissimo perché noi oggi viviamo purtroppo e la logica della guerra adesso non vorrei fare grandi paragoni però è quella c'è quindi c'è anche un conflitto da gestire il tennis ci aiuta a riconoscere che c'è un limite oltre il quale non puoi andare ma che devi andare verso l'alto beh verso l'alto superando delle fatiche e delle difficoltà questa è l'omelia del vescovo di stamattina che ci parlava poi di temi però squisitamente evangelici però molto bello perché effettivamente la spiritualità non può essere qualcosa al di fuori del corpo dei nostri sensi anzi la spiritualità vera è proprio quella che aiuta il corpo a manifestare la sua bellezza la sua trascendenza le immagini delle sfide di questa mattina 31 i tennisti iscritti provenienti da 5 diversi paesi questi valori questo spirito padre Daniel lo coglie sempre nei tornei ai quali partecipa e anche a questo di Fano che si è appena aperto sì sì stiamo qua molto molto bene poi il circolo anche è bellissimo ci hanno accolti tutti molto bene e poi le sfide sicuramente le abbiamo iniziate stamattina quindi le sfide sono sempre molto lottate queste partite perché il livello si sta alzando piano piano quindi le sfide diventano sempre più lottate e vabbè stiamo bene vediamo vediamo come chi vince comunque siamo siamo già tutti vincitori di essere già qui mi pare che anche i meno giovani ci diano dentro mi hanno detto è così sì molto agguerriti sì 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 è vero li chiamiamo i nonni abbiamo preso questo termine diciamo che sicuramente però non è legato alla passione all'agonismo con cui invece scendono in campo tra l'altro ha stupito gli stessi tecnici il nostro Matteo Del Bene che ci ha curato un po' l'aspetto tecnico che veramente si sono iscritti anche al torneo di doppio pur avendo diverse partite esatto diverse partite quindi era preoccupato per la salute ma invece vogliono arrivare fino alla fine sfruttando a pieno questi tre giorni è vero che in Polonia in particolare nel tennis c'è un'interazione un dialogo anche con i grandi campioni del tennis polacco si faceva il nome di Urkacz è così? c'è questo scambio di esperienze anche con giocatori professionisti? ma diciamo tra noi preti e giocatori professionisti sì per esempio con Urkacz no con Urkacz no ma per esempio Agnieszka Radvańska anche Ursula Radvańska le sorelle Radvański sono nate a Cracovia e abitano a Cracovia quindi il nostro organizzatore Joseph Zaputa ha chiesto anche il patronato delle sorelle Radvański e abbiamo l'abbiamo ottenuto anche questo patronato quindi con quelli che abitano a Cracovia magari è più facile invece Urkacz è da Breslavia quindi quindi con lui ancora con lui non abbiamo diciamo però ve lo ripromettete sì perché lui non lo sa semplicemente non lo sa se lo se l'avesse saputo secondo me sarebbe stato anche con noi anche perché a vederlo almeno da lontano sembra un personaggio molto disponibile sì 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 poi sarà anche un po' impegnato sai non è che può stare con noi ma secondo me avrebbe accolto anche questo l'invito ecco questa interazione anche con le grandi figure dello sport Don Francesco per Paoli ha qualche esperienza in particolare con Davide Mazzanti commissario tecnico fino a pochi mesi fa della Nazionale Azzurra di Pallavolo un'interazione che però alla base nasce dall'oratorio perché lo sport per decenni ha trovato l'infa nella dimensione oratoriale che ora si sta riscoprendo e che poi in qualche modo valorizza quella che è magari l'esperienza di un torneo di tennis riservato ai sacerdoti sì un oratorio che diventa come diceva anche Daniel il luogo in cui non si fanno fare cose ai ragazzi e ai bambini ma in cui si fanno con loro quelle attività per me l'adulto che poi diventa un all'educatore potrei adesso uso questa parola l'adulto non è solo il catechista perché questo che tu dici Andrea mi sembra molto importante noi pensiamo che per educare alla vita cristiana c'è il catechismo al sabato noi ultimamente stiamo puntando molto invece sulla vita insieme sul gioco sul gioco e soprattutto su una persona adulta che con loro sperimenta quello che i ragazzi stessi vivono lo sperimenta sul campo scende in campo anche lui non sta a guardarla dalle tribune purtroppo come accade a volte guardando dei genitori che guardano i propri figli che giocano a calcio che si arrabbiano contro l'arbitro e contro tutti spettacolo tristissimo spettacolo tristissimo che però a noi dice stai in mezzo a loro stai con loro condividi con loro e poi diventa anche l'oratorio un luogo in cui scopri i talenti dei ragazzi cioè scopri dei doni senza senza il gioco non riusciresti mai a capire perché hai sulla testa magari soltanto alcune cose la bellezza di quel ragazzo e di quella ragazza perché poi il talento spesso è specifico certo è specifico generico e soprattutto io di questo ne sono convinto il talento la creatività viene fuori dentro delle regole cioè se io ho delle regole poi riesco a trasgredirle in quella trasgressione c'è la creatività la bellezza di quella persona davanti alla quale e qui mi riporto a Davide Mazzanti che tu citavi rimaniamo a bocca aperta perché per quanto tu insegni una tecnica però poi alla fine quella persona riesce a fare cose che tu non gli hai insegnato ma che lui aveva che lei aveva nel proprio cuore nella propria vita grazie a Don Francesco Pierpaoli parroco di San Paolo Apostolo al Vallato e promotore di questo evento grazie a padre Daniel Vasek grazie a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima e poi andrà oltitte a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori